Un fossile del cane urso, specie vissuta 35 milioni di anni fa, il cranio del dire wolf, un antenato del migliore amico dell'uomo di 50 mila anni fa. Sono solo alcune delle reliquie che sarà possibile vedere negli spazi di FUF, il primo museo del cane d'Europa inaugurato oggi a Mondragone in provincia di Caserta. Sezione scientifica sull'evoluzione del cane e una parte sul legame con l'uomo nella storia anche in chiave cinematografica completano l'ampia zona dedicata ai reperti archeologici. L'idea è venuta ai due soci dell'associazione che opera per la tutela dei diritti degli animali Vivi Mondo, gli imprenditori Michele Falco e Vito Luigi Pellegrino. Primo in Europa, l'altro museo sta negli Stati Uniti perché lì c'è sempre stata una grossa pressione per i cani. In Italia dove abbiamo il museo del maiale, il museo del cavallo, il museo è diviso in cinque sezioni. Abbiamo una sezione che racconta l'evoluzione storica del cane, quindi abbiamo un fossile, un cane urso, che non è proprio un cane però sa le origini del cane di 35 milioni di anni fa. Del tutto autonomo dal punto di vista energetico, grazie al fotovoltaico, il museo è anche una struttura polifunzionale che offre, oltre ai recinti e le cucce per ospitare cani d'allevamento o abbandonati, un ambulatorio con la possibilità di assistere anche al parto e all'allattamento dei cuccioli. Il progetto è patrocinato dal Consiglio regionale della Campania, dalla provincia di Caserta e dal comune di Mondragone. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Giovanni Schiappa e il presidente nazionale di Asso Canili, Michele Visone. Realizzare qualcosa di così significativo tenendo presente che bisogna rispettare l'ambiente con strumenti energetici non invasivi. Per Asso Canili è un motivo d'orgoglio questa iniziativa, tenuto conto che il lavoro di Asso Canili, la politica di Asso Canili è finalizzata ad incentivare le adozioni e a fare campagne di sensibilizzazione.